Segretario Murgi, questo incontro oggi è per parlare anche delle europee, ma a Crotone si parla tanto delle alleanze che si stanno facendo. Sono tutte vere? Lei ha detto bene, questo è un incontro che non si parlerà dell'europea esporadicamente. È stata voluta e affermata proprio per parlare e discutere di un appuntamento molto importante che sono le europee e che vede questo nostro partito impegnato alle europee. Perché noi abbiamo bisogno di più Europa e soprattutto abbiamo bisogno di un partito che sia visibile dentro questo contesto, perché dobbiamo fare in modo di avvicinare la Calabria all'Europa e l'Europa alla Calabria. Ecco perché abbiamo voluto organizzare questo appuntamento e soprattutto l'abbiamo voluto fare a Crotone. L'abbiamo voluto fare a Crotone perché vogliamo presentare i candidati del PD dentro questo collegio. Perché noi vogliamo chiedere la fiducia, prima di tutto vogliamo farli conoscere e poi vogliamo chiedere la fiducia per i nostri candidati. E per quanto riguarda la provincia sono già state assegnate le deleghe del PD che sarà a rappresentare il partito? Guardi, del PD a rappresentare il partito sono quelli che sono stati votati e che sono risultati, che in questo caso c'è dell'Aquila Giuseppe, poi c'è Tonino Barberi e c'è Saverio Flotta. Sono quelli che ci rappresenteranno perché sono stati votati. Quindi per quanto riguarda le deleghe è chiaro che si discuterà. Si parla già della vicepresidenza dell'Aquila, è vero? Guardi, è chiaro che si parla della vicepresidenza dell'Aquila dal primo momento perché dell'Aquila è stato il primo eletto. Quindi si è pensato subito a lui perché è in un contesto dove ci sono tantissimi comuni che sono stati sciolti per varie vicende. E quindi è normale, c'è un'esigenza particolare per quel territorio. Quindi si discuterà per vedere un po' qual è la soluzione migliore per il nostro partito, per il territorio della provincia di Crotone, in maniera particolare per quei territori che sono in grande difficoltà. Questo è tutto il discorso di quello che si sta parlando, un grande parlare continuatamente, ma dal primo momento, di accordi fatti prima delle elezioni, noi gli accordi li facciamo sempre e comunque alla luce del sole, nelle istituzioni, istituzione, provincia. Istituzione, provincia. Quindi non ce ne sono accordi sotto banco, non ce ne sono quelle situazioni che si creano, e che hanno sempre quest'alone di mistero. Non c'è nessun mistero. Quando tutto viene fatto alla luce del sole, quando tutto viene fatto alla presenza di delegazioni, non ci possono essere cose che non vengono con quest'alone misteriosa. Assolutamente no, non ce ne vedo. Anche perché per carattere io non faccio queste cose. Per incidere e decidere in maniera particolare.